certo noi diciamo che importa poco con chi giocheremo per prima perché per passare il turno bisogna vincerle entrambe le partite quindi che sia prima carpi e poi conversano contrario cambia poco noi sicuramente non veniamo da un bel periodo veniamo da tre sconfitte di fila ma abbiamo voglia di invertire la rotta e provare a regalare questa soddisfazione alla società ai tifosi che ci renderebbe veramente orgogliosi e sarebbe la conclusione di un'annata che è sicuramente positiva saranno tre giorni sicuramente molto impegnativi la squadra si sta preparando al meglio è concentrata per dare il massimo e per cercare appunto di riuscire a strappare il pass per le semifinali sicuramente affrontiamo delle squadre molto ostiche perché conversano secondo me viene sottovalutata pressano indubbiamente sappiamo che quando noi siamo entusiasti di questo per comunque già andarci porta entusiasmo perché siamo una squadra giovani siamo partiti creando un gruppo quest'anno e quindi sicuramente potevi fare benissimo malissimo non sai mai cosa aspettarti noi sicuramente andremo la vendendo caro la pelle in ogni partita e sapendo che ogni partita può essere decisivo siamo contenti di aver raggiunto questa missione per andarsi a giocare l'ultimo posto per la semifinale sicuramente andiamo senza pressione solo per andare a fare una bella figura e dimostrare che comunque ce la siamo invitato questa seconda posizione sicuramente l'obiettivo primario era centrare il playoff siamo riusciti a migliorare dopo ogni partita ci siamo allenati molto bene e ce la siamo sicuramente meritata questa seconda posizione sicuramente nessuno si aspettava di arrivare fino a questo punto ma ormai che ci siamo ci troviamo quello che riusciamo a prendere senza nessuna pressione e quello che viene viene ciao